Simone D'Angelo, ecco una slide che direi importantissima in questo periodo storico. Ricordiamola, fondamentalmente è stato creato un network di commercialisti proprio dalla nostra azienda perché riteniamo che questo trade union tra la nostra azienda e i commercialisti che sono effettivamente i professionisti più vicini agli imprenditori, ricordiamolo, imprenditori che a nostro avviso sono proprio lo scheletro della nostra economia e che stanno vivendo un momento davvero difficile, insieme possiamo aiutarli e dare tanto valore aggiunto sia ai professionisti, commercialisti ed anche ovviamente agli imprenditori. Siamo crescendo in maniera davvero importante e riteniamo davvero che insieme potremo fare grandissime cose. A questo punto direi Simone D'Angelo ci siamo, chiedo alla regia di fare entrare il nostro ospite, l'onorevole Marco Campomognoso. Benvenuto Marco, benvenuto a Touch Live. Grazie, grazie a voi e che bella sigla, sono onoratissimo, grazie davvero. Allora, grazie mille Marco di essere qui con noi, diciamo che siamo davvero contenti anche perché abbiamo un onorevole che ci stava raccontando dietro le quinte quello che sta accadendo, ovviamente con una visione che potrà essere esclusivamente parziale rispetto ad un momento così complicato e diciamo anche difficile da interpretare perché ci sono tante dinamiche in atto e tanti cambiamenti. Io, come al solito, lascio ad Angelo Fasola la prima domanda per Touch Live. Sì, grazie Carlo, grazie. La prima domanda, vabbè, l'hai anticipato tu un attimo fa, non può che non essere relativa a questa crisi di governo, dove, io dico il mio pensiero, insomma, quasi certamente non si andrà a una conferma di questo governo perché da una parte Salvini e Berlusconi dicono noi non staremo più, no, con il Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte i giornali e le opinion leader di tutto il mondo vogliono un Draghi bis, Conte che mette condizioni praticamente inaccettabili per Mario Draghi, insomma, credo di poter dire che questo governo non verrà confermato, ma in che direzione andiamo Marco? Andiamo nella direzione del Draghi bis, non so come, oppure sono più vicino alle elezioni? Beh, ci sono ancora degli aspetti che non sono noti e chiari nemmeno a noi esponenti dei partiti, io mi riunisco ogni giorno, quotidianamente con Matteo Salvini, gli altri capigruppo della Lega, io sono capogruppo a Bruxelles, secondo me molto dipenderà da quello che Draghi comunicherà alle camere, perché è un po' anche la sua interpretazione rispetto a quello che è successo che in questo momento deve arrivare, perché sinceramente sia noi che Forza Italia, noi della Lega e Forza Italia, pensiamo che un esperimento per continuare a governare insieme al Movimento 5 Stelle in questa fase, serva solo per tirare a campare, ecco, non ci sembra che cambi molto se andremo a votare fra due mesi o tre, o quello che sarebbe, oppure a marzo o in scadenza naturale due mesi più là, quindi a un certo punto, proprio perché le scadenze sono importanti, proprio perché le imprese, i lavoratori sono molto preoccupati rispetto a quello che avverrà in quest'autunno, probabilmente è più sensato terminare questa esperienza, visto che non c'è più probabilmente quell'afflato, quel sentire comune che si era creato intorno alla figura di Draghi e che è mancato dal fatto di venire meno di una specie, come dire, di volontà di mettere da parte le questioni personali e partitiche e di portare avanti l'interesse del Paese. Noi, insomma, stiamo pagando anche in termini forti, nei sondaggi, la nostra scelta di responsabilità. Ecco, ci piacerebbe che venisse reso noto anche questo, ecco, perché poi noi abbiamo un partito che è nel centro-destra, che è però in opposizione e che beneficia dal fatto che noi ci siamo assunti questa responsabilità, a un certo punto noi siamo disposti a fare questo, se ci sono progetti concreti su cui andare avanti, altrimenti l'ipotesi elezioni è, a nostro avviso, la via maestra. E non credo ci saranno su PNRR e su altri provvedimenti delle problematiche così complesse che comunque ci sarebbero in qualsiasi momento se andasse al voto. Quindi, insomma, credo che i cittadini dopo più di quattro anni di legislatura abbiano il diritto di potersi esprimere. Non lo vedo come un momento così drammatico. Se poi invece si trovasse la quadra, come si dice, per andare avanti, ma lo si deve trovare su elementi concreti e importanti, e non perché qualche grillino deve pagarsi mutuo e allora bisogna ancora di sette, otto mesi di stipendio. Ecco, ma Marco, hai introdotto il discorso del PNRR, poi lascio la parola a Simone che so che avevo una domanda per te. Ma quanto veramente corriamo il rischio, così come si leggeva in questi giorni sui giornali, il rischio di andare alle elezioni, di non continuare con un Mario Draghi bis, è anche quello di non riuscire a rispettare gli obiettivi e i parametri per poi avere la prossima erogazione del contributo relativo al PNRR? Quanto c'è questo rischio se si va alle elezioni? Ma di fatto è un rischio che non c'è, cioè nel senso che le camere continuano a lavorare e prima che si sciolga poi il governo, anche il governo uscente sugli affari correnti continua a lavorare. Quindi veramente noi abbiamo emesso una nota con il sottosegretario Freni agli affari economici, che è una delle persone di maggiore qualità che abbiamo dato a questo governo, che ha chiarito che in quel senso anche certe scadenze si sospendono per via del momento elettorale, che poi richiederebbe veramente pochissimo tempo, perché ora stiamo parlando o degli inizi di ottobre o di marzo, in questi casi si tratta di date abbastanza compatibili con un lavoro di un certo tipo. Tra l'altro tutti i dati ci dicono che in caso di elezioni ci sarebbe una maggioranza abbastanza netta, chiaro, poi faccio gli scongiuri, incrocio le dita, perché sono del centro-destra, però una maggioranza netta a favore di un centro-destra che riprenderebbe il lavoro quasi immediatamente. Ma ripeto, stiamo parlando di una situazione su cui mancano alcuni elementi. Cosa vuole fare il PD? Il PD sta cercando in tutti i modi di convincere il Movimento 5 Stelle o una parte di questi a rimanere in questa maggioranza, perché probabilmente è lo stesso PD a non avere l'interesse a eventualmente continuare questa esperienza solo con la Lega e Forza Italia, perché allora a un certo punto magari quei provvedimenti utili al fisco che per noi sono importanti come la pace fiscale e altri, allora li porremmo con forza perché sono urgentissimi e a quel punto avremmo forse una maggioranza all'interno di questo governo. Non so, è una crisi che è stata scatenata dal Movimento 5 Stelle. A nostro avviso c'è una responsabilità anche del PD che sentendo già ad ora di campagna elettorale aveva cominciato con proposte molto politiche e molto di parte. Noi certe proposte sapevamo che non le potevamo neanche fare in questo ambito, ma che ce le saremmo riservate con forza con una maggioranza di centrodestra, appunto il tema fiscale, il tema della flat tax, aumentando magari la quota di applicazione. Un tema forte che per noi è importantissimo è quello dell'immigrazione con tutte le conseguenze sociali che stiamo pagando nelle nostre città in queste settimane. Insomma, lo dice anche Chiara Ferragni che ci sono dei problemi abbastanza forti. Insomma, tanti temi che vanno posti e che non significa... E porli non significa rappresentare degli interessi partitocratici di parte o di chissà chi, perché si tratta di esigenze della società a nostro avviso, perché sinceramente la Lega può avere pregi e difetti, ma di sicuro è un partito ramificato sui territori anche in maniera tradizionale con le sezioni, specialmente al nord. E questo ci permette di percepire un sentimento della cittadinanza che, lo devo dire, è molto critico. Insomma, nel senso io ho un dato, credo, del 99% delle persone che incontro che sono stufe di questa esperienza. Noi sappiamo che questa è un'emotività che è dovuta anche a un momento molto critico. Pensiamo a quello che ci aspetterà sui costi delle materie prime, delle risorse energetiche, le bottigliette per le famiglie e quelle per le imprese. Già sono dati che, attenzione, se siete attenti, Matteo Salvini denunciava ancora prima dell'invasione dell'Ucraina, perché erano dati che emergevano già. Addirittura la BCE sottovalutava l'impatto di un certo tasso di infezioni, finché ha capito che invece si tratta di un dato purtroppo molto lungo, di lungo periodo, non certo un dato effimero dovuto solo all'uscita della pandemia. Quindi in molti pensavamo che con questo governo avremmo solo dovuto gestire l'uscita della pandemia, una situazione di crescita, quindi impostare il paese nuovo dopo una pandemia, dopo una situazione di disagio enorme. Invece ci siamo ritrovati a dover gestire una situazione ancora più grave. Questo forse non era previsto e questo ha reso tutto ancora più difficile. Marco, secondo lei perché in Italia c'è l'allergia ad andare alle elezioni? Nel senso, ogni volta che c'è una crisi di governo, si sbandierà ogni volta o c'è l'emergenza, o l'emergenza Covid, o l'emergenza guerra, o qualsiasi altra cosa si possa abbattere, o le cavallette, qualsiasi cosa si abbatte nel nostro paese, viene utilizzato come strumento per non andare alle elezioni. Quando invece tutti i paesi europei hanno dimostrato durante questo periodo, cioè Israele è andata alle elezioni ben tre volte negli ultimi due anni, e gli altri paesi hanno fatto lo stesso. Perché invece da noi ormai si cerca sempre di prolungare, di arrivare a fine legislatura e non di rimettere il popolo sovrano? Ma perché da noi da vent'anni circa è stato deciso che l'Italia deve avere un vincolo esterno molto forte, e quindi in qualche modo Bruxelles e in queste settimane anche Washington devono avere l'ultima parola per qualsiasi scelta che il nostro paese deve compiere. Premesso che nessun partito politico importante e rappresentativo in Italia credo rappresenterebbe un problema non solo di stabilità, ma anche ovviamente a maggior ragione di tenuta della democrazia. A noi della Lega queste influenze hanno sempre dato molto fastidio, per cui spesso è una certa nomenclatura legata a un partito, che in questo caso è il PD, che nei sondaggi da un po' di anni rispetto alla coalizione del centro-destra è molto indietro e quindi per cercare di difendere la propria parte ci sono degli italiani che anche all'estero cercano di portare avanti un quadro disastroso rispetto a un'incapacità degli italiani di poter decidere sul loro futuro democraticamente, scegliendo quali partiti li possano rappresentare maggiormente. Se vi ricordate, addirittura nella scorsa legislatura europea il commissario Oettinger un giorno disse, dopo il successo di Lega e Cinque Stelle, quindi la formazione del Conte 1, Oettinger disse il mercato insegnerà agli italiani come votare, ecco, povero mercato, io non lo so se il mercato deve compiere questo, ecco, io credo che sia la politica che deve fare in modo che il mercato nei propri ambiti possa prosperare, portare ricchezza, investimenti e soprattutto competitività. Io invece noto che in questa situazione, fra l'altro, la stessa Italia non ha saputo fare quel salto di qualità che io pensavo che con questo governo avremmo potuto avere anche nella sua propria rappresentanza a Bruxelles. Io ho una lunga esperienza a Bruxelles, sono stato funzionario, assistente di Matteo Salvini, funzionario del gruppo di cui facciamo parte al Parlamento Europeo e solo da tre anni sono eletto. Questo governo è esattamente come tutti gli altri che lo hanno preceduto rispetto alla presenza nei dossier principali che si stanno discutendo in questo momento. La Francia ha anche votato mentre presiedeva il semestre europeo, pensate. Ha votato e c'è una situazione per cui praticamente Macron non ha una maggioranza, ma questo può essere un po' caotico di per sé, ma non crea alcun problema. ma è semmai rappresentativo di una società molto divisa in quel paese e probabilmente, verosimilmente, anche nel nostro. Ma quello che mi ha colpito molto è che Draghi e i ministri del suo governo avevano alcuni importanti incarichi. Uno era anche quello di gestire il futuro del patto di stabilità, che oggi per alcuni suoi effetti è sospesa e che ha un vincolo molto forte rispetto a un'Italia che si troverà nei prossimi anni ad avere delle spese per l'impatto sociale che avremo molto forte su famiglie e aziende, che cresceranno e che però non saranno probabilmente compatibili con un patto di stabilità che andrà a ritornare effettivo, perché alla fine mi sembra di aver capito che Gentiloni giochi a buttare la palla un anno più avanti. E poi sulle norme del cosiddetto Fit for 55, cioè il tema green, tema su cui siamo tutti, anche dalla nostra parte del centro-destra, consapevoli dell'importanza, però crediamo che occorra un approccio più di buon senso, perché l'innovazione ci sarà, ci sarà anche da parte delle imprese italiane che stanno facendo già tanti investimenti in questo senso, però occorre una certa neutralità tecnologica, occorre non cadere nel tranello di finire ancora di più sotto una certa dipendenza da parte della Cina, perché nel caso tedesco e della questione russa ci ha insegnato di quanto sia stato un errore essere così dipendenti sulle risorse energetiche da parte della Russia. Ecco, secondo me in questo senso l'Italia nel suo complesso come sistema paese doveva essere un po' più attenta a rappresentare i propri interessi industriali e produttivi a livello europeo in questi mesi. Proprio su questo tema Marco, un passaggio che si configura all'orizzonte almeno così, così lo si vede, lo si percepisce, da una parte l'inflazione che sale ormai stabilmente all'8% da due mesi e non si vedeva così dal 1986. Dall'altra parte l'aumento dell'energia, quindi non soltanto un'inflazione che si ha sui consumatori, ma un costo molto maggiore sulla produttività delle nostre aziende. Tutto questo sul piano della competitività riguardo, voglio dire, alla nostra nazione, poi ci aggiungiamo anche che ormai abbiamo fatto pari patta con il dollaro, sulla competitività e quindi la capacità di esportare e la capacità di continuare a crescere ovviamente all'estero, perché non possiamo pensare di crescere in Italia più di tanto col numero di persone. Quanto pagheremo questo conto? A mio avviso purtroppo molto, perché ci stiamo dando anche un sistema di regole che penalizzerà tutta la produttività europea nel prossimo decennio. Soprattutto nella fase di transizione, noi avremo due fasi di transizione, quella green per arrivare a un sistema produttivo a impatto zero sull'ambiente e poi però quella più di breve termine per non avere più la dipendenza dalla Russia, su cui ci stiamo attrezzando. Lo stesso primo ministro in questi giorni ha fatto una visita importante in Algeria, ma che richiederà del tempo. E questi due anni circa che ci vorranno come minimo, anche se la Commissione europea nel suo piano ha stabilito il 2027 come data in cui l'Unione europea nel suo complesso potrà essere indipendente energeticamente. Potete immaginare, da qui al 2027 nessuna impresa può pianificare ulteriori sacrifici, ulteriori costi, perché se no la propria competitività è totalmente fuori. Tant'è vero che si parla di accordi anche con gli Stati Uniti rispetto al costo molto importante delle loro risorse energetiche. Si parla di infrastrutture, la Zerbaijan, la TAP, che erano addirittura osteggiate da alcuni apprendisti stregoni che abbiamo ancora al governo e che hanno anche causato questa crisi. Capite che noi non ci fidiamo anche di stare al governo con un partito come quello del Movimento 5 Stelle, che ancora l'altro giorno con Conte ha legittimamente sparato contro i termovalorizzatori, contro la capacità estrattiva dell'Italia che non vogliono aumentare. Ricordiamoci le parole di Cingolani, non quindi di un cattivo estremista, leghista, ma di una persona di buon senso che conosce bene i numeri dell'economia ambientale e che spiega che noi avevamo un dato di capacità di produrre energia da fonti in Italia di circa il 20%, che si è ridotto al 2% per scelte politiche, dei cosiddetti NIMBI. Ci sono anche persone che stimo, a cui voglio bene, che non vogliono i rigassificatori. Un segnalo che dove ci sono i rigassificatori non succede niente, è chiaro, sono scelte difficili, sono scelte che dobbiamo fare all'improvviso, però sono scelte che se non prenderemo, che sia con il governo Draghi, che sia con il governo che verrà dopo le elezioni, che sia con un governo di transizione, il Paese rischia di andare incontro a un problema gravissimo di capacità produttiva e di capacità di crescita. E poi siamo legati per tante ragioni al processo produttivo che vi è in Germania e in Germania in questo momento c'è il panico rispetto a quello che gli aspetta. E lì sarebbe bene anche discutere dell'eredità che ha lasciato Angela Merkel a un Paese che aveva un mercantilismo che si confondeva un po' con la politica estera e una politica per cui comunque si andava sempre a cercare la materia prima, il processo produttivo o la risorsa energetica nel posto dove costava meno, chiudendo gli occhi, se si trattava di un Paese che non rispettava i diritti umani o di un Paese in conflitto, e chiudendo le orecchie rispetto agli appelli che per esempio gli Stati Uniti facevano agli amici tedeschi anche ancora sotto la presidenza Trump, se vi ricordate bene, il tema allora era del surplus commerciale, che è un dato, quello del surplus commerciale, tra l'altro non che noi italiani non ce l'avessimo molto altro, il dato del surplus commerciale così evato da parte della Germania era criticato dagli americani da molti anni e i tedeschi facevano finta di niente e io ho parlato con tedeschi a Bruxelles che mi dicevano e cosa facciamo? Chiamiamo l'Audi e gli diciamo di non vendere automobili? Evidentemente no, dovevano fare delle politiche di investimento che avrebbe aumentato quindi il tasso di spesa, magari quindi facendo lavorare anche imprese non tedesche e quindi creando un po' una distribuzione maggiore di quel tasso di crescita immenso che la Germania ha coltivato e preservato in questi anni. Nessuno mi toglierà dalla testa che la crisi russo-ucraina accade anche perché qualcuno era andato un po' col piede troppo pesante sull'acceleratore in Europa in questi anni, però forse è presto per poterlo dire, ma andatevi a cercare il video in cui alle Nazioni Unite Donald Trump parla proprio di questo aspetto, parla di una Germania troppo dipendente dalle risorse energetiche russe, era il 2018, alle Nazioni Unite e il ministro degli esteri tedesco ridacchiava, pensava che questo è matto. Ecco, oggi ce ne siamo accorti che magari era matto, però su quel tema aveva ragione. Marco, un'ultima domanda. Ti ringraziamo per essere stati qui con noi a Taxi Live. Allora, domanda a considerazione. non è il momento di avere finalmente un po' di politica in Italia, quindi con un progetto politico, una visione, e non sempre invece un insieme di grandissimi professionisti, ma mi sembra di parlare di commissari, liquidatori, ragionieri, la politica, cioè rimettere al centro quella che è la visione di un paese che non potrà mai essere, a mio avviso, una coalizione fatta dall'estrema destra all'estrema sinistra. E la considerazione è quanti miliardi, e parliamo di decine e decine di miliardi abbiamo speso in questi due anni senza aver toccato nulla. Cioè, nel senso, noi non abbiamo inciso da nessun punto di vista. Faccio degli esempi. Non abbiamo toccato l'IRAP, non abbiamo inciso sul cuneo fiscale, non abbiamo lavorato sugli ammortizzatori. Cioè, abbiamo speso, speso, decine e decine di miliardi, come mai, penso da decine e decine di anni, ma politicamente non si è sentito nulla. Ma io vi racconto anche un aneddoto che la dice lunga anche sulla capacità della classe politica. Durante il Conte 2, vi ricordate che Conte annunciava misure, finanziamento di qui, di là, ristoro di qui, ristoro di là. Esatto. Esatto. Qualcuno magari si sentiva rassicurato da questo. Però poi, mi ricordo, forse proprio per una decontribuzione per il Sud, tema importante, mai risolto del tutto, noi cominciavamo, proprio da dei professionisti, come voi, a ricevere delle segnalazioni. Ma scusa, ma ne sapete qualcosa di questa cosa annunciata più di un mese fa? E poi siamo andati a verificare con la Commissione Europea e Roma non l'aveva notificata, perché tu devi notificare, come dire, come una sorta di eccezione rispetto al tema degli aiuti di Stato. Anche una decontribuzione, ecco, è un aiuto, no? All'impresa, ai professionisti di un territorio. E quindi in fretta e furia poi lo comunicarono, ma è perché io andai ad accertarmene presso la Commissione Europea, cioè ci fu anche un certo imbarazzo, qualche giornale, scrisse due righe, però questo vi dà l'idea di come, vabbè, sono anche periodi molto complicati, per cui si corre dietro ai provvedimenti, alcuni si lasciano abbandonati, non si fanno i decreti attuativi, e soprattutto quando inizia una presidenza di semestre all'istituzione europea, magari nella mia commissione, io sono in Commissione Trasporti, Commercio Internazionale, arriva il ministro, che ne so, tedesco, piuttosto che francese, in questo caso i ministri della Repubblica Ceca, ma cavolo, quando arrivava il ministro tedesco e guardavo il suo curriculum, era una persona che era da dieci anni che faceva il ministro, magari non ininterrottamente in quel ministero, ma in altri ministeri. Questo significa avere un'esperienza e anche una conoscenza dei dossier che vengono aperti e chiusi dalla stessa persona. In un paese come l'Italia, che paga molto il fatto di avere governi come in questa legislatura, che durano uno o due anni, è quasi impossibile poter mantenere un coordinamento tra i parlamentari europei, tra i membri del governo, tra i deputati e i senatori, per dare continuità a un certo tipo di lavoro. Per questo io spero che le elezioni ci siano per dare un governo stabile e di legislatura laddove è possibile. Poi ci mancherebbe. I partiti... Io sono un caso particolare. Io sono iscritto al mio partito, la Lega, da quando ho 16 anni, cioè da 30 anni fa. Io sono ben conscio del fatto che se i cittadini sono lontani dai partiti è una responsabilità delle forze politiche che hanno commesso errori gravissimi. Però arrivare al punto di considerare, come certi appelli di questi giorni, di Renzi, piuttosto che di altri, che si deve formare un governo dove i partiti non devono porre alcuna condizione, non è giusto, non è realistico, perché i partiti ci sono in tutti i paesi del mondo tranne che nelle dittature. C'è un altro problema però. La classe dirigente dei partiti non è all'altezza spesso e deve essere selezionata in maniera... che rispettasse il merito. Ecco, cioè perché purtroppo, troppo spesso ci siamo trovati con persone inadeguate a svolgere ruoli importantissimi. Questo è imbarazzante. Ma se è nato il Movimento 5 Stelle e soprattutto ai primi tempi utilizzando certi slogan, ebbè la colpa è di chi non ha saputo risolvere e dare delle risposte prima. E c'era anche il mio partito, quindi ne prendo atto. La Lega è nata come partito antisistema quando cade la Prima Repubblica, ma si è subito assunta delle responsabilità a livello locale. Oggi siamo un partito che sa che deve dire dei no, ma che nello stesso tempo deve rispondere a una classe dirigente fatta di sindaci, di amministratori locali, che ogni giorno si rapportano con i problemi quotidiani, col tirare avanti con un bilancio ristrettissimo e col dare delle risposte, soprattutto nel sociale, a classi sociali di cittadini che sono sempre più esasperati e preoccupati. Quindi è per non parlare della necessità di lasciare alle imprese un campo dove possano agire in maniera libera e verso la crescita e senza un eccessivo livello di tassazione. È responsabilità di tutti se siamo giunti a questo. Grazie mille Marco, sono proprio temi che adesso andremo a trattare nella seconda parte. Grazie mille per essere stato al Tassi Live e ci auguriamo di rivederti. Grazie mille Marco. Grazie mille Marco. Alla prossima Marco. Buona serata, grazie.